La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 19 agosto, buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa, andiamo a leggere insieme le notizie di oggi. Partiamo dai fatti nazionali con il quotidiano romano, il messaggero in apertura letta, chi stacca la spina pagherà, il premier avverte il PDL, no a interessi di parte, stop ai professionisti del conflitto, accelerazione sulla legge elettorale ma il centrodestra alza il tiro su governo e colle. In retroscena Berlusconi chiede sostegno al premier che risponde di no, la polemica grillo attacca, non si può più parlare chiaro. Il trofeo Supercoppa Lazio travolta all'Olimpico, la Juventus domina la partita e vince 4 a 0. La gazzetta del mezzogiorno in apertura la sfida diletta ai partiti, a ottobre la legge elettorale e basta con i professionisti del conflitto. Napolitano, UE, unita o perde, il Papa, il potere, teme chi dialoga con Dio. Governo e il premier al tradizionale meeting di Cielo e Rimini, calorosa accoglienza da migliaia di giovani, Enrico, non mollare. Focus nelle pagine interne, domenica tragica, donna nega nel Salento, altre vittime nel Barese, madre e figlio morti sulla locorotondo Fasano, a Bari, scontro fratale, nella zona industriale, una 79enne di specchia stava facendo il bagno. La denuncia di una ventenne, gli abusi forse consumati in una villa studentessa drogata e violentata a Lecce, ora indaga la procura. Calcio è già Juventus, Supercoppa ok, Lecce, K.O. che non fa male, esordio alla grande di Conte, 4 a 0 alla Lazio. E arriviamo alle notizie della città con la gazzetta di Lecce, la notizia centrale, il giallo studentessa drogata e violentata, scatta l'inchiesta della procura. Gli abusi sessuali sarebbero stati consumati in una villa alla periferia di Lecce. Una ventenne di Taranto ha trascorso la notte di Ferragosso con alcuni amici conosciuti su Facebook e chimosi sui polsi e sulle caviglie. Drama a Torre San Giovanni, anziana, nega dopo un malore, la ritrova un pescatore. Nuovo quotidiano di Puglia, drogata e stuprata in spiaggia, denuncia shock di una ventenne, la violenza dopo una festa tra San Cataldo e San Fuoca al vaglio della polizia, il racconto di una ragazza tarantina, si cercano i suoi amici. L'indagine, il Times, un isolento tra i 400 Atenei migliori al mondo, Lecce unica nel sud. Così fanno i mangiafuoco, intossicati, finiscono in ospedale, due animatori di un villaggio di Ugento, ingeriscono il liquido infiammabile. E andiamo ad aprire le pagine interne, la prima pagina dell'attualità, la classifica del Times, l'Ateneo Salentino tra i migliori 400 in tutto il mondo, il primato e l'unica università del sud Italia. Il giallo, dopo la festa, ventenne denuncia, mi hanno drogata e stuprata, polizia al lavoro per far luce sul racconto della giovane tarantina, il posto, la violenza sarebbe avvenuta sulla spiaggia tra San Cataldo e San Fuoca. Il mistero, ricordi troppo vaghi e confusi anche sui due giovani che l'avrebbero accompagnata. E passiamo alla cronaca della provincia, a Ugento, mangiafuoco per gioco, intossicati per davvero, trasportati in ospedale, hanno rischiato di restare avvelenati, due animatori di villaggio ingeriscono il combustibile. Concludiamo con lo sport, prima pagina, il Lecce ha già un'identità ma c'è tanta strada da fare, luci e ombre per i giallorossi dopo l'eliminazione della Coppa Italia dei Grandi. Il mercato, tesoro, suo amodio e cortellezzi per assicurare al tecnico gli ultimi rinforzi. La ripresa, l'obiettivo è recuperare i tanti atleti infortunati. La Rassegna Stampa oggi termina qui, appuntamento fra poco con TG News 24. La Rassegna Stampa è stata offerta da...